Noi stiamo pareggiando, stiamo impattando 0-0, ora è venuto il momento di sblocare il risultato, l'arancione di Gangolo per il tomo, dalla sinistra, dalla banderina sinistra è pronto, Edoardo Bobolon in aria, Anelli, anche Borghese, attenzione, palla in mezzo, batti e ribatti e lì ancora perde il pallone, sbarreva, finisce giù, finisce giù, Borghese, poi grande botta!